In Natale è in pericolo, come nasce questo libro? Questo libro nasce come la volontà di due colleghi di lavoro e amici di esprimere la propria arte insieme. Io sono Cristian Salvaudo, ho partecipato a vari concorsi letterari locali e ho sempre amato a scrivere. Invece Laura, al contrario, ha sempre amato a disegnare ed è la sua passione più profonda. Quindi sul posto di lavoro nasce l'idea di creare un libro, Il Natale è in pericolo. Com'è illustrare un libro così? È divertente sicuramente e stimola la fantasia in tutto e per tutto. È la mia prima esperienza questa, come illustratrice di un racconto. Devo dire che mi sono molto divertita e mi sono fatta ispirare dalle parole di Cristian e devo dire che... Cristian è il suo primo libro questo? Questo è il mio primo libro, sì. E come nasce l'idea di scrivere un libro sul Natale? Il Natale è qualcosa di universale e essendo il nostro primo libro, perché ormai non parlo più di mio libro ma di nostro, essendo un progetto fatto insieme, cercavo qualcosa che avesse il carattere proprio dell'universalità, che potesse essere di gradimento per tutti i bambini e di tutte le culture.